L'incredibile chiesetta scavata nella roccia, a due passi dal mare. Prima di visionare il video, premi il pulsante iscriviti, e lasciami un mi piace, è importante per noi avere il tuo supporto. Tra storia e leggenda, questa chiesetta scavata nella roccia e lambita dalle acque del mar Tirreno è un vero gioiello, scopriamola insieme. Di chiese rupestri ce ne sono molte in giro per il mondo, ma quella situata in Calabria è davvero unica. Forse è il suo panorama meraviglioso, specialmente quando il sole rosso tramonta, illuminandola come un fuoco ardente tra le rocce. Forse è la leggenda che da secoli la circonda con un'aura di mistero. Fatto sta che la chiesetta di Piedigrotta è veramente magica, e tanti turisti ne sono rimasti incantati. Scopriamo la sua incredibile storia. La chiesetta di Piedigrotta, tra leggenda e storia. Questo incantevole luogo di culto scavato nella roccia si trova in Calabria, a pochi passi dal grazioso borgo di Pizzo Calabro, uno dei borghi più belli lungo la costa degli dèi. Secondo la leggenda, nacque per mano di una manciata di marinai devoti alla Madonna di Piedigrotta. Verso la fine del XVII secolo, una nave proveniente da Napoli si trovò nel bel mezzo di una violenta tempesta, proprio nei pressi delle coste calabresi. Gli uomini a bordo, che custodivano gelosamente un quadro raffigurante la Madonna, chiesero alla Madonna la grazia di poter toccare nuovamente terra, promettendo di erigere una chiesa proprio nel punto in cui sarebbero approdati. La nave naufragò a poca distanza da Pizzo Calabro, e qui i marinai costruirono il luogo di culto scavando nella roccia viva. All'interno posero il quadro della Madonna di Piedigrotta che si salvò miracolosamente, insieme alla campana del veliero. Nel corso dei secoli, diverse mareggiate invasero la chiesetta, portando via il quadro con la furia delle loro acque, ma quest'ultimo venne sempre ritrovato esattamente nel punto in cui la nave si schiantò contro gli scogli. Naturalmente, di questa storia non esistono testimonianze scritte, ma è sicuramente molto affascinante. Quello che sappiamo per certo è che verso la fine del XIX secolo, l'artista Angelo Barone decise di dedicare la sua vita a restaurare la chiesetta, ampliandola e creando splendide sculture dai blocchi di tuffo. Il suo lavoro venne poi completato dal figlio Alfonso, che realizzò altre meravigliose opere d'arte. Purtroppo, negli anni Sessanta alcuni vandali distrussero gran parte della chiesa e delle sue statue. Per questo motivo, il figlio di Alfonso, che da tempo viveva in Canada, tornò a casa con il suo talento di gran scultore e diede nuova vita a questo luogo spettacolare. Oggi la chiesetta di Piedigrotta è un vero e proprio museo, mentre il 2 luglio vi si celebra messa in occasione della Madonna delle Grazie. Le opere d'arte custodite nella chiesetta Visitare la chiesetta di Piedigrotta è davvero un'esperienza meravigliosa. Quali sono le sue opere più belle? Sulla facciata, che è estremamente semplice, spiccano una croce in ferro e la statua della Madonna con il bambino Gesù, a protezione dei marinai e dei pescatori. All'ingresso, dopo aver superato il portale con quattro angeli che reggono le acquasantiere, si aprono tre grotte, ciascuna delle quali ospita delle sculture che raccontano scene delle sacre scritture. Uno dei luoghi più affascinanti è la cappella della Madonna di Pompei, sul cui altare c'è un bellissimo basso rilievo. Un'altra opera meravigliosa è il grande presepe che raffigura sia la classica natività i Gesù tra le braccia di Maria, San Giuseppe, i pastori, il bue e l'asinello, sia sullo sfondo un paesaggio arabo con i re magi a dorso di cammello. In un'altra grotta ancora è possibile vedere raffigurata nel tuffo la parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci di Gesù. Mentre poco lontano c'è una statua in gesso della Madonna di Lourdes con la piccola Bernadette San Giorgio, protettore di pizzo, nell'atto di trafiggere il drago. Tanta bellezza non passa inosservata, la chiesetta di Piedigrotta è il monumento più visitato della Calabria dopo i bronzi di Riace. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like, un commento e condividere con i vostri amici. Ci vediamo alla prossima! Ciao!